Andiamo a giocare con la bandetta giallorossa, con i numeri, con tutti gli stessi squadri. E andiamo a fare le partitine con le squadre di me. Ma dopo vi sarà data. Siccome questo è un gioco di squadra, ok? Purtroppo siamo una squadra, andiamo a giocare con un'altra squadra. Che cercheremo di andare a divertirci, non è importante che non ci ripetano, non ce ne frega niente. Noi dobbiamo andare a giocare e ci dobbiamo andare a divertire. Il risultato a noi non ci interessa, capito? Ci interessa giocare bene, fare gol, tutto quello che vogliamo. Però per fare questo, per fare tutto questo, per andare a giocare, ci dobbiamo preparare. Preparare significa venire al campo, allenarci per benino, seguire quello che vi dicono gli istruttori.